Bentornati cari amici ad una nuova puntata di TG Rap, lo spazio di IOTV dedicato all'informazione a tempo di musica. Per i vostri commenti e segnalazioni vi ricordiamo il nostro portale visitabile anche da iPhone www.iotv.tv e la nostra mail tgrap.iotv.tv. Ma mi raccomando IOTV è anche su Twitter e Facebook. Ma passiamo ora alla prima notizia. Il maltempo causa alluvioni e allagamenti ma è al sud che la pioggia ha fatto i danni più gravi anche a Taranto e provincia. Una buona notizia per gli ecologisti tarantini. In progetto la costruzione di una mega pista ciclabile che unirà la città con le province limitrofe. Questa giusta è critica? Che cosa? La pista ciclabile? Per cosa? Credono sia inutile? Ma cosa? Invece è molto utile? Per cosa? Vieni a metti liberi di andare in bicicletta, non pagare la benzina che ogni giorno aumenta, l'assicurazione che ci truffa e che ci tenda, il traffico che non c'è la salute di chi ha fretta. L'energia rinnovabile non è più un tabù. 30 impianti fotovoltaici verranno installati sui tetti di altrettante scuole di Taranto e provincia. Il sole sprende in cielo e finalmente lo si usa. Sopra i testi vuoti delle scuole alla rinfusa. 30 scuole infatti sono state designate. Dagli impianti elettrici verranno sormontate. Con le fotocellule faranno la corrente. Da vendere poi nei contattori si dell'Enel. Quindi niente spreco, espruttamento di risorsa. Questo teamediano riderebbe il premio Oscar. Volete consumare un pasto in un'atmosfera familiare e conviviale? Frisienne Mangian è quello che fa per voi. Tutto di produzione propria, anche da asporto. A pranzo tutti i giorni tranne la domenica e dal giovedì al sabato anche a cena. Frisienne Mangian, Viale Magna Grecia 217, Taranto. Ed ora un omaggio musicale alle donne per la festa dell'8 marzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501